La Procura ha avviato l'inchiesta per ricostruire quei terribili momenti sui binari di Via Friburgo a Padova, dove la scorsa settimana una ragazzina di 12 anni è stata travolta e uccisa da un treno merci. Un incidente agghiacciante che ha sconvolto tutti. Lei era uscita da scuola, aveva attraversato i binari nonostante le sbarre abbassate. Non ha fatto in tempo ad arrivare dalla parte opposta, ha calcolato male i tempi, non si accorta del mezzo. Tutto è in mano a chi sta indagando per fare chiarezza. Ci sarebbe anche un filmato. In corso anche la verifica della velocità del mezzo, che in quel punto non dovrebbe superare i 30 km orari.